Il mio organismo percepisce la forza di gravità tridicata come su Giove Io per farmi forza chiedo all'armatillo Oh ma vieni pure te, non siamo tanto un'oretta e poi torniamo E lui mi risponde Sì, te vai con la macchina, io te raggiungo col coso Ehm, come si chiama? Il coso, dai! Ah, sì, te raggiungo col cazzo